allora io buongiorno a tutti buonasera diventate ancora mi guardate io oltre a fare tappezzerie paglia di via in una corda e mobili in bambù recupero anche mobili in rattan questo è il rattan che poi effettivamente si chiama midolino a 2 mm tondo siccome attualmente grazie al lockdown siamo al 3 giugno 2020 non si trova il materiale perché non è arrivato questo materiale qui arriva dalla Cina ma io ho necessità di legare quando ho già iniziato di legare questo pezzo qui perché è ballerino che va legato a questo mobile così e ho necessità impellente perché mi serve devo riportare il materiale devo ridare il lavoro dietro il divano impellente a rifare questo divano che faccio io in genere i vecchi mobili in rattan non li butto li recupero li tengo da parte perché se all'improvviso non trovo il rattan si smonto dai vecchi cesti questo si sfila si bagna si sfila si sfila no? si toglie via ovviamente bagna ed altrimenti si spezza questo si spezza se non lo bagno e lo pulisco con acqua e sabone e lo monto questo è un rattan impeso da quel mobile lì e lo monto per poter recuperare e aggiustare il divanetto questo divanetto oltre ad avere necessità di essere rilegato questi pezzi qui che sto facendo perché ecco qua un gatto che sono innamorati dei rattan perché il divanetto deve essere legato in questo modo io lo faccio a doppio filo perché se no non regge perché ovviamente è fatiscente in quel punto necessita di legatura alle gambe ve lo faccio vedere qui che è tutto slegato questo va stagliato e va sostituito oppure se riesco a recuperare questo rimetterò questo è un lavoro lungo e di pazienza perché questi tipi di mobili vanno lavorati rigorosamente inumiditi non bagnati perché il rattan se si bagna tira fuori i fili e i fili sono dei specifici filetti ve lo faccio vedere sul filo che ho appena montato e poi è un casino toglierli i mobili molto spesso queste procedure in legno sono su come lo hanno curvato perché si curva a fuoco si bagna e si mette a fuoco non è come le sedie tonè di Gustav Tonè che sono tonde che ha inventato il legno curvo qui parliamo di bambù curvo questo è bambù io l'ho coperto per i gatti ecco questo è bambù questo è midolino di bambù Gustav Tonè ha inventato il legno curvo a vapore questo viene curvato a fuoco viene bagnato e curato a fuoco i filetti di cui io sono questi eccoli qua questi quando si bagna troppo escono questi filetti e vanno tagliati ci sono molti dentro un casino questo tipo di mobile necessita assolutamente di essere reidratato perché questi mobili vengono venduti come mobili da giardino anche se io effettivamente dico da giardino non sono perché dopo una stagione in giardino succede questo si secca se si secca si spezza si spezzano se lo tronco si spezza che sono umidi tipo queste che è umido lo muovo tranquillamente ecco un altro gatto lo muovo tranquillamente senza spezzarsi e per evitare che si disidrata perché è disidratato una volta all'anno dopo la stagione io consiglio di passare olio di lino cotto biondo così rimane biondo no 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 leva leone che fai manella non si fanno le unghie sui mobili disgrado befana non ti faccio uscire fuori eh se vuoi stare sulla stagione o stare mai unghie no avete tante sedi da sfasciare questo dovete sfasciare chiedo scusa allora per di nuovo no ma mocca scendi da lì scendi da lì e scendi giù ma guarda tu alle sedi su da sfasciare no mi deve sfasciare quelle nuove quelle che non sono i miei stavo dicendo allora dopo aver passato olio di olio di olio paglierino biondo per farlo rimanere chiaro se mettete quello rosso diventa rosso ovviamente se mettete quello verde diventa verde tutta una conseguenza io consiglio di mettere eh una miscela di acquaraggia e olio di lino cotto una bella passata a pennello o a spruzzo io consiglio a spruzzo perché se no a pennello non vi passa più anche l'olio di lino cotto eh olio paglierino non conviene passarlo a spruzzo altri che a pennello ci vuole 10 boccette perché ne assorbe ne tira e per creare una una protezione che vi duri almeno un anno e poi l'anno prossimo ha ripetuto ogni anno fino a quando il mobile non ce la fa più perché comunque diventerà vecchio e si dovrebbe essere buttato in genere dopo una stagione questi immobili regono massimo due o tre stagioni poi sono da buttare se non sono trattati se sono trattati durano anche di più l'olio di lino cotto io lo uso anche sulle mie finestre per non dipingerle ogni tanto io posso passo olio di lino cotto con acqua raggia una volta all'anno e spenderlo fino a quando ne assorbe quando ne assorbe più significa saturo perché l'olio di lino cotto cristallizza e lo rende impermeabile uguale faremo con questo mobile qui ok e insomma mano a mano che faccio i lavori farò le foto se ci sono introduzioni qui ho iniziato a legare ovviamente la legatura vera diversa perché è fatta a due fili io per poterlo reggere qui siamo a quattro fili lo ha infilato qui l'ha fatto con l'ago e va infilato qui in modo che poterlo eccolo qua farlo reggere altrimenti se non faccio così questo qua si spezza si rompe del tutto come qua vedi è tutto spezzato tutto spezzettato tutto bloccato adesso in teoria il secondo filo sarebbe questo andrebbe infilato qui però io faccio così per farlo reggere di più tanto non si sfila invece mettere un goccino di colla farlo stretto troppo adesso lo allentiamo un attimo e metterò un goccino di colla proprio per farlo reggere poco poco di più io metto colla vinavil con un goccino d'acqua perché mettendo un goccino d'acqua il vinavil l'entra più elastico non si secca del tutto e rimane leggermente elastico va bene insomma mano a mano che continuo i lavori qua va relegato lo faccio le foto e poi farò il video finale con tutto l'ambaradan con un goccino di colla